In collegamento un mio carissimo amico che è Alex, siamo inici nel mondo reale perché ci conosciamo, il mio caro amico, primo per partita con un ospite. Un progattita particolare perché c'è Alex. Ciao a tutti. Che sensazioni hai di questo match, dai. Ma guarda, io penso che sarà una gran bella partita. Solo che mi sta cominciando a venire qualche piccolo dubbio di mercato, sinceramente. Perché? Perché Luciani sta cominciando a fare i capricci, quindi non capisco come mai non si spinge per fare un acquisto per un centrale di difesa. Non crede in aderperato? Ci credo, ma serve anche un sostituto, poiché Luciani sta cominciando a fare un pochettino i capricci. Capricci fisici? No, 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 fisici, fisici. Eh, devo dire la verità, non è torto. Forse qualcosa ci vuole, perché poi alla fine c'è Peda. Invece c'è Peda, ma crediamo anche nel portiere. Ma quando parla alla fine fa ancora le sfacce. Il portiere è una scoperta. Sono tre partite che giochiamo con lui e non abbiamo preso gol. Quindi è un po' merito non solo della difesa, ma anche suo. Vedremo, vedremo. Vedremo se ci sarà anche una scoperta di insignia alla riscossa. Vedremo. Se il mister ha deciso di mettere in signa dal primo minuto, vuol dire che il precampionato è stato molto più positivo rispetto a Checco Di Mariano. In effetti a Oxford si è visto, scusami, è interessante, già dai. Rispetto a l'Ace, rispetto contro l'Ace, già a Oxford. Sì, infatti, infatti. Ascoltami, io ti devo lasciare adesso e sentiamo dopo per la partita. Un bacio. Ciao, ciao, ciao. Alex è l'invitato, però mi ha fatto molto piacere averlo anche solo per due minuti. Beato lui, c'è una bellissima giornata qua in Inghilterra e nulla. Speriamo, a quanto pare, sì, anch'io condivido Gomis. Non siamo la zampadinese che voleva tutti i costi valorizzare Posavec e altri elementi. Giocano i migliori, è quello che mi pare. Vincere contro il Parma pure i rigori già fa morale. Mi ha aperto gli occhi su Inclusioni, forse ci vuole un altro difensore veramente forte. C'è questo Ferrari, ex Sassuolo, ancora svincolato, ma... Francamente non ho idea, a quello che serve oggi si vedrà in signa e ci vorrebbe un vero laterale di sinistra. Bella domanda. Lo scopriremo comunque dopo la partita. Ci vediamo dopo, un abbraccio.